La sfida tra Avellino e Giuliano è quasi un inedito. Le due squadre infatti si sono affrontate in campionato una sola volta e dal vecchio piazza d'armi. Nel torneo di promozione interregionale del 1951, 1-0 per i Lupi grazie ad una rete realizzata dall'attaccante Aliprandi. Le due squadre si sono ritrovate però in Coppa Italia il 29 agosto del 99. In quelle occasioni i Lupi di Belotti si imposero in trasferta per 1-0 con gol dell'attaccante Pierotti. E nei sedicesimi sempre della Coppa Tricolore due anni dopo con sconfitta per 2-1 in trasferta con rete di Sanè e vittoria in casa per 1-0 grazie al gol realizzato da Calcagno. Diversi ex nel match e quasi tutti tra le fila dei Tigrotti. In prima fila il tecnico Raffaele Di Napoli, allenatore in seconda dell'Avellino di Salvatore Campilongo nel 2008-2009. Luca Tulino che dopo aver vinto il campionato con Bucarandi ha lavorato con Ignoffo e Capuano. Il portiere Agnello Viscovo che ha conquistato la promozione in cipro con il tecnico siciliano. Walter Zullo che ha giocato ad Avellino nel torneo 2012-2013 siglando un gol al Gubbio e contribuendo alla promozione in B. Prima di tornare nel 2018-2019 e disputare con i Lupi anche la stagione successiva. E Ciro e Raffaele Pozziello con un passato nella primavera bianco-verde. Il capitano ha giocato con i Lupacchiotti nel 2007-2008 mentre il centrocampista ha vestito la maglia dell'Avellino nel 2005-2006. Tra i bianco-verdi Raffaele Biancolino, tecnico della primavera, 20 presenze e un gol con il Giuliano nel 1995-96. Il DS giallo-blu è Antonio Modio, figlio di Roberto, difensore con una lunga militanza tra i Lupi.